Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Alex Monaco 16 e stavolta sono qui insieme a voi per fare le partite random nel martedì però stavolta non è un proprio live oppure commenteri sul gioco ma è una specie di vlog allora, innanzitutto vi volevo dire che sul mio canale ci saranno alcuni cambiamenti infatti mi arriva l'Xbox e riesco a fare un'altra cosa e questa settimana ci sarà un doppio appuntamento con i walkthrough che sarà sia il giovedì sia il venerdì perché non ho questa settimana da potrò ti unboxare o meglio ce n'ho uno però è poco importante e lo metterò la settimana prossima allora penso che farò walkthrough di Far Cry 3 prima di tutto poi farò anche Dead Space e Crysis quando usciranno darò la priorità ai giochi appena usciti naturalmente fino a finire la loro campagna e che altro volevo dirvi? potete scrivermi nei commenti i giochi vorreste vedere nei miei walkthrough e poi nel mio canale fra poco avrò la partnership infatti ho i requisiti per fare la partnership e me la dovrebbero dare nel giro di una settimana allora mi raccomando intanto vi dico un po' la settimana come andrà allora vabbè ieri lunedì c'è stata la stessa puntata di figlio di K9 la settima puntata di figlio di K9 ci sarà lunedì prossimo e si verrà con una classe con esclusivamente la B23R una vera e propria follia però forse sarà uno scuso antisommossa ma non vi spoilerò altro poi ci sarà l'appuntamento con i tutorial per mercoledì e ci sarà il tutorial su come usare i trucchi di Razol su Android in seguito farò altri tutorial però non so ancora le date precise se, come e quando di come imbrogliare Razol su, non su Android ma anche su iPhone e poi come creare una intro simile alla mia nuova con cinema 4D eccetera eccetera sarà un po' complicato da fare però lo farò per voi naturalmente guardate anche gli altri miei video perché alcuni sono veramente belli iscrivetevi al canale e poi dopo mercoledì che è il giorno dei tutorial ci sarà giovedì che come vi ho detto al posto di unboxing ci sarà un altro walkthrough insieme a venerdì, sabato ci sarà un'altra partita random vi ricordo non per forza di Call of Duty le partite random e invece di domenica ci sarà un video random che penso sarà o un tutorial oppure codebusters nuovo che farò insieme a Luigi poi ci saranno altri video la settimana prossima come vi ho detto K9 numero 7 e poi ci sarà anche un altro video che ho già fatto che sarà quello dell'unboxing del cavo componente per la PS3 come avevo già anticipato qualche settimana fa mi serviva appunto questo cavo che ho comprato su ebay e regno unito per neanche 5 euro cosa che in Italia vendono almeno a 15 spese e spedizione incluse 5 euro e mi è arrivato in circa due settimane no, più o meno una settimana e mezzo e lo userò appunto per registrare oltre al video anche l'audio nei miei video penso che l'abbiate già notato perché appunto tipo quando faccio video muti oppure quando faccio video su zombie l'audio veramente serve soprattutto quando faccio i wall true sui giochi perché fare i wall true cioè non starò lì tutto il tempo a parlare perché sarò più concentrato nel gioco ma come dire se non si sente l'audio del gioco che li faccio a fare allora vi ricordo che farò questi wall true farò anche Dead Space 3 dopo adesso farò un po' di Far Cry 3 ora vi dico che giochi farò perché ce li ho scritti ce li ho qua i giochi già li ho comprati qua c'ho i giochi saranno allora Far Cry 3 poi c'ho anche Borderlands 2 però non so se farlo Hitman c'ho Hitman e Blue Solution poi Assassin's Creed 3 che per oramai la storia la conoscono un po' tutti quindi mi sa che sarà un po' inutile e vabbè penso che farò principalmente Far Cry 3 e poi farò GTA 5 però non so se lo comprerò per X360 oppure PS3 perché se l'online sarà una cosa interessante ma molto interessante lo comprerò per PS3 se invece sarà così così lo comprerò per 360 tanto non giocherò all'online invece come dice Dead Space 3 pure farò lo stesso discorso e anche per Crysis 3 penso che lo comprerò su PS3 perché l'online di Crysis è abbastanza buono poi ci sono vabbè i Call of Duty comprerò sempre per PS3 che io a regalare i soldi alla Minecraft per l'Xbox Live cosa che dico vabbè tipo su PS3 costasse la metà oppure un terzo dico vabbè potrebbe essere migliore l'Xbox il Kinect alcune vantaggi il joystick è pure un po' più bello quello dell'Xbox bello e più funzionale dico vabbè regalameci questi soldi in più ma ma su PS3 è gratis e su Xbox si paga fosse stata una piccola differenza ma cioè io a spendere veramente più o meno 60 spero di non sbagliarmi tipo 60 euro all'anno per giocare online cose su PS3 gratis ti compri un gioco in più all'anno e ti spendi a comprare una console vabbè io l'ho comprata principalmente anche per il Kinect la Xbox perché alcuni giochi veramente ne vale la pena poi volevo dire che appunto farò la partnership e quindi creò un nuovo sfondo e poi vabbè questo video non parlerò per tutto il video comunque è stato un buon risultato parlo un po' di questo sto facendo questo video con la MSMC anche il C4 la scossa elettrica lo sto facendo insieme ad Andrea che è su PS Network che si chiama 8Q8 che è un mio compagno di classe e questo video faccio in prima nella prima partita farò mi pare un 40 o un 50 17 veramente un buon risultato invece nella seconda farò un 20 15 una cosa del genere 25 15 pure è stato un buon risultato adesso vediamo qua quanto ho fatto vabbè ci sarà una piccola interruzione per fare due partite infatti andrà nel menu e poi ricomincerà l'altra vi consiglio di guardarlo fino a fondo perché ovviamente sono due belle partite perché l'ho caricato come video muto cioè commentare che è più un vlog perché appunto cioè mi sembra un po' inutile commentarlo perché si vede già da qui il risultato che ho fatto veramente un sacco di killstreak sia nella prima sia nella seconda partita vi raccomando l'appuntamento con i Waltro potete suggerirmi nei commenti i giochi di cui fare video anche per partite random vabbè il video di oggi è quasi finito spero vi piacerà iscrivetevi al canale lasciate un like potete andare anche a vedere i miei video mi raccomando con cui fare l'hack sul prestigio dei black ops 2 sarete prestigio massimo tutte le armi sbloccate non vedo l'ora che esca sia a crisis 3 perché veramente crisis 2 è veramente un bel gioco se non ce l'avete giocato vi consiglio vivamente di acquistarlo a chi piacciono gli fps vabbè crisis 3 uscirà mi pare il 28 febbraio insieme più o meno alla stessa data di dlc revolution di ps3 che purtroppo su x360 è già uscito quelli di ps3 sono leggermente svantaggiati vabbè un po' serve pagare però vabbè pagare per il live si intende vabbè io ho comprato il season pass veramente questo dlc mi piace tanto perché secondo me in questi dlc uscirà anche negli altri uscirà un'arma perché poiché questa è stata la prima volta secondo me uscirà tipo una per ogni categoria vabbè speciali no perché solo su tanti sono mosso però tipo adesso uscirà una mitragliettrice mitraglietta poi vabbè un cecchino un fucile assalto da mitragliettrice leggera spero sarà così perché veramente molto bella la pskipper ho visto un po' le immagini su internet sembra carina vabbè gli accessori sono belli poi usciranno le 4 mappe multiplayer che saranno hydro grind poi gli altri nomi delle due non mi ricordo e una ambientata sulla neve un'altra nel deserto un'altra in uno skatepark e un'altra in una centrale idroelettrica in cui si potrà attivare l'acqua non so ancora bene se la attiva un giocatore o di una squadra oppure viene attivato automaticamente tipo il treno di express comunque è una cosa molto utile che ucciderà i nemici e poi ci sarà la mappa di rise da cui mi aspetto molto è che sono tutte nelle grattacelle ambientazioni a vari livelli una mappa molto estesa in cui possiamo costruirci anche un cappellino dobbiamo costruirci il cappellino con la luce per andare in questi corridoi e ascensori bui e poi ci sarà la nuova modalità tarnid che ancora non ci sia molto ci saranno sicuramente dei video su x360 perché vi ricordo che il dlc l'ha già uscito il video di oggi finisce qui spero vi sia piaciuto continuate a guardarvi la partita ciao a tutti ragazzi e al prossimo video a quello di domani al tutorial grazie a tutti Grazie. 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 Grazie.